Volevo rubarvi qualche minuto per raccontarvi in poche parole quello che oggi Italpol rappresenta. Italpol più che un'azienda io la definisco una grande famiglia, una famiglia che ha sempre creduto nelle proprie risorse, nei propri uomini, nelle proprie donne e ha sempre investito soprattutto sulla formazione e sulla comunicazione, cercare di essere sempre vicini a loro, non dimenticarli mai perché oggi più di prima all'interno dell'azienda è centrale avere questo rapporto con il dipendente perché è il dipendente il vero centro dell'azienda. Che cosa stiamo facendo in questo momento di importante nei confronti dei nostri dipendenti? Stiamo cercando sempre di più di accompagnarli verso un mondo che si sta innovando, un mondo tradizionale, quello della vigilanza privata, ma che oggi tende sempre di più verso l'innovazione, verso l'innovamento. Quindi è bene non dimenticarci delle proprie risorse, delle risorse umane che devono essere, devono accompagnare questa nuova visione della vigilanza. Un altro aspetto che noi ripotiamo molto importante è la parità di genere. Mi spiego meglio, stiamo cercando sempre di più in un mondo, come ho già detto, sempre più tradizionale, comunque ancora ramidificato verso alcuni preconcerti del mondo della vigilanza privata e dei servizi fiduciari di riuscire a raggiungere il 50% della Guadarosa, cioè riuscire a trovare quell'equilibrio tra l'uomo e la donna all'interno della nostra attività. È un obiettivo importante, è un obiettivo virtuoso, ma siamo sicuri che ci riusciremo. Grazie.